In questo momento l'incontro con il Presidente della Regione e il Sindaco di Milano, oltre al questore, ma poco prima c'è stata la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica alla presenza del Comandante Generale, dei Carabinieri, Generale Nistri, del Capo della Polizia, il Prefetto Gabrielli e degli altri più alti rappresentanti delle Forze dell'Ordine, compresa la Capitaneria di Porto di Genova. E ancora prima del Comitato il Ministro dell'Interno Lamorgese si è collegato con le sale operative di Carabinieri, Questura e Guardia Costiera di Genova, chiedendo agli uomini in servizio come fossero organizzati i servizi della giornata odierna e facendo loro gli auguri di un buon lavoro per l'impegno che le Forze dell'Ordine stanno mettendo in questa giornata di Ferragosto.